Tanti i fiocchi rose ed azzurri ad Arezzo nei mesi dell'emergenza, tutte nascite sicure senza alcun baby covid. L'emergenza sanitaria infatti non ha fermato la vita e sono stati così in tutto 351 i bimbi venuti al mondo all'ospedale San Donato nei primi tre mesi del 2020. Nessun neonato è risultato positivo al coronavirus. Il reparto di ostetricia e ginecologia non si è mai fermato nemmeno nei mesi dell'emergenza, lavorando incessantemente per dare la massima tutela e garanzia alle partorienti. Siamo rimasti nel nostro reparto in ospedale ma abbiamo rivoluzionato il modo di lavorare con un obiettivo garantire la massima sicurezza, ha ricordato Ciro Sommella, il direttore dell'unità operativa. Ogni futura mamma prosegue è stata sottoposta al tampone alla 39esima settimana, quindi avevamo e abbiamo la certezza che quando entrava o entra in ospedale è negativa il covid-19. Il nostro reparto è stato rigidamente tagliato in due aree separate, accessi diversi, percorsi diversi e personale diverso, questo per avere la certezza che la donna entrasse e uscisse negativa e con lei anche la bambina o il bambino. Una volta appurata l'assenza di sintomi, anche per il padre è garantito l'accesso alla sala parto. Unica novità è la brevità dell'adegenza, ridotta quando possibile da 72 a 48 ore. L'unità operativa infine si è organizzata anche per garantire i tradizionali servizi consultoriali e di guide genitori nel follow-up dei neonati, la diagnostica prenatale e invasiva, l'ecografia del cuore fetale, nonché le attività ambulatoriali della gravidanza gemellare e della gravidanza rischio. È stato sempre garantito, ovviamente su richiesta, anche il parto in dolore con epidurale e la certezza della gestazione delle gravidanze complicate grazie alla salda collaborazione con il reparto di neonatologia.